Non c'è bisogno di scomodare grossi nomi come quello della Klein, di Winnicott o di Freud per sapere quanto il gioco sia importante o addirittura fondamentale nello sviluppo del bambino per l'acquisizione di competenze relazionali e empatiche. Nel webinar che ti sto presentando giochi psicologici a scuola vedremo in quattro ore come far acquisire tramite il gioco ai bambini delle competenze di tipo relazionale, di tipo emotivo e di autoconsapevolezza come rispettare i turni oppure avere rispetto per il proprio gruppo di gioco e per il gruppo avversario. Il webinar è indicato principalmente a docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado anche se alcuni giochi possono essere adattati alle secondarie di secondo grado. Grazie a tutti!